Telemedicina a supporto del servizio sanitario regionale e l'iniziativa del distretto 2090 Abruzzo Marche Umbria e Molise del Rotary Club che ha messo sul piatto un fondo da 41 mila euro per attivare un servizio di monitoraggio a distanza dei malati covid. Il progetto già operativo coinvolge 73 medici e 37 club Rotary di altrettante città. In Abruzzo sono circa 35 i medici reclutati dai 14 club partecipanti. Il progetto è stato presentato a Pescara da Rossella Piccirilli governatore del distretto Rotary e dall'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. La finalità è quella di evitare dove possibile di sovraccaricare le strutture ospedaliere tenendo a casa i pazienti pauci sintomatici o asintomatici che tuttavia però necessitano di una costante ed attenta osservazione medica in quanto il rischio di peggioramento inaspettato delle condizioni cliniche è sempre elevato. Il progetto dunque si colloca nell'ambito della medicina territoriale un settore che ha sofferto negli anni di tagli e carenza di personale. In questo momento di difficoltà per il servizio sanitario nazionale l'Atene Medicina dunque può offrire una risposta efficace perché permette di assistere i malati covid a domicilio monitorandone i parametri fondamentali. In pratica si possono tenere sotto controllo a distanza saturazione, temperatura corporea e pressione attraverso saturimetri analogici e bluetooth e monitor multiparametrici. I valori vengono poi trasmessi attraverso una app, una piattaforma informatica alla quale hanno accesso i medici di medicina generale per tenerli sotto controllo. Abbiamo pensato di essere presenti attraverso i nostri club che comunque sono sempre protagonisti della nostra azione di questo progetto che si concretizza nell'acquisizione di una piattaforma messa a disposizione dei medici di medicina generale indicati dai nostri club e quindi hanno la possibilità di monitorare i medici a distanza ai propri pazienti e di pazienti insomma da casa non affollando pronto soccorsi o non dovendosi muovere possono ecco tranquillamente essere monitorati e visitati.